dal trattato apparecchio alla morte di santa alfonso maria degli uori siate pronti non dice il signore che ci apparecchiamo quando ci arriva la morte ma che ci troviamo apparecchiati quando viene la morte allora in quella tempesta e confusione sarà quasi impossibile aggiustare una coscienza imbrogliata così dice la ragione così minaccia dio dicendo che allora egli non verrà a perdonare ma a vendicarsi del disprezzo fatto delle sue grazie a me la vendetta sono io che ricambierò lettera ai romani capitolo 12 versetto 19 giusto castigo dice sant'agostino sarà questo per colui che potendo non ha voluto salvarsi di non potere quando vorrà ma dirà alcuno chissà può essere ancora che allora mi converta e mi salvi ma vi gettereste voi in un pozzo con dire chissà può essere che gettando mi resto vivo e non muoio o dio che cos'è questa come il peccato acceca la mente che fa perdere anche la ragione gli uomini quando si tratta del corpo parlano da savi quando poi si tratta d'anima parlano da pazzi fratello mio chissà se questo punto che leggete è l'ultimo avviso che vi manda presto apparecchiamoci alla morte a ciò che non ci colga improvvisamente dice sant'agostino che il signore ci nasconde l'ultimo giorno di nostra vita affinché in tutti i giorni stiamo apparecchiati a morire ci avvisa san paolo che bisogna attendere a salvarci non solo temendo ma anche tremando attendete alla vostra salvezza con timore e tremore lettera ai filippesi capitolo 2 versetto 12 narra sant'antonino che un certo re della sicilia per fare intendere ad un privato il timore col quale egli sedeva nel trono lo fece sedere a mensa con una spada pendente da un piccolo filo sulla testa sicché quegli stando così appena poté prendere qualche poco di cibo tutti noi stiamo con lo stesso pericolo mentre in ogni momento può caderci sopra la spada della morte da cui dipende la nostra salute eterna si tratta di eternità se un albero cade a sud o a nord laddove cade rimane libro di coele capitolo 11 versetto 3 se venendo la morte ci troviamo in grazia di dio o che allegrezza sarà dell'anima potendo allora dire ho assicurato tutto non posso perdere più dio sarò felice per sempre ma se la morte troverà l'anima in peccato qual disperazione sarà il dire dunque ho errato e dal mio errore non ci sarà rimedio per tutta l'eternità questo timore fece dire al venerabile avila apostolo delle spagne quando gli fu portata la nuova della morte o avessi un altro poco di tempo per apparecchiarmi a morire questo faceva dire all'abbate agatone con tutto che moriva dopo tanti anni di penitenza che ne sarà di me i giudizi di dio chi li sa sant'arsenio anche tremava in morte e domandato dai discepoli perché così temesse figli rispose questo timore non mi è nuovo io l'ho avuto sempre in tutta la mia vita soprattutto i tremava il santo giobbe dicendo che farò quando dio si alzerà e quando farà l'inchiesta che risponderò a mio dio e dove io ho avuto mai uno che mi ha amato più di voi e dio chi mai ho disprezzato ed ingiuriato più che voi o sangue o piaghe di gesù voi siete la speranza mia eterno padre non guardate i miei peccati guardate le piaghe di gesù cristo guardate il vostro figlio di letto che muore di dolore per me e vi domanda che mi perdoniate mi pento mio creatore di avervi offeso me ne dispiace più di ogni male voi mi avete creato a ciò che io vi amassi ed io son vissuto come se mi aveste creato per offendervi per amore di gesù cristo perdonatemi e datemi la grazia da marvi io prima resisteva alla vostra volontà ora non voglio più resistere voglio fare quanto mi comandate voi mi comandate che io detesti gli oltraggi che vi ho fatti ecco li detesto con tutto il cuore mi comandate che io risolva di non offendervi più ecco risolvo di perdere prima mille volte la vita che la grazia vostra mi comandate che io vi ami con tutto il mio cuore sì con tutto il mio cuore io vi amo e non voglio amare altro che voi voi avete da essere da oggi innanzi l'unico mio amato e l'unico amor mio a voi domando ed a voi spero la santa perseveranza per amore di gesù cristo fate che io vi sia fedele e che io sempre vi dica con san bonaventura unus est dilectus meus unus amicus meus è uno solo il mio diletto uno solo il mio amico no non voglio che la vita mia mi serva più a darvi disgusto voglio che mi serva solo per piangere i disgusti che vi ho dati e per amarvi maria madre mia voi pregate per tutti coloro che a voi si raccomandano pregate ancora gesù per me e cuore Grazie a tutti.